E' una medaglia fatta del nostro applauso, della nostra ammirazione per ognuno degli atleti che taglierà il traguardo, dal primo all'ultimo. E vedete qua, testa a testa per la seconda e terza posizione, ma per il primo posto, per la medaglia d'oro, non c'è storia. Dai che gli applausi si sentono, forza, abbiamo il primo vincitore di giornata. Dai, 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 mamma mia quanti applausi, che spettacolo. Dai, 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 forza. La fuccia è di un colore particolare e quindi vediamo un po' chi esce dall'acqua. Bravissimo, bravo. Davide, è il primo vincitore della traversata nell'Ario, edizione doppia. Davide, voltati. Un uomo anziano vince la traversata. Quanti anni hai? Quattordici. Quattordici anni. Quattordici anni per Davide che vieni da? Sondrio. Da Sondrio. Quindi, pizzocchi e riusciate, guardate il risultato. Secondo posto e vediamo qua chi arriva. Bravo, bravo, bravo. Secondo posto, tra poco il podio. Complimenti. Secondo posto per Marco, grandissimo. Davide, Marco. Tra poco grazie a OTC, vi daremo la classifica. Complimenti, è ben arrivato. Terzo posto. Morganti, è terzo. Bravo. E abbiamo la prima foto e il vostro applauso per il podio della traversata doppia. Vittoria di Davide, quattordici anni. Bravi. Bravi tutti. E adesso armatevi di pazienza perché ne mancano solo 797. Vedete, la nuotata è molto veloce, quindi è la nuotata di chi è in testa. La traversata classica. Ovviamente poi grazie a OTC Combo vi daremo anche il tempo d'arrivo. Dai, dai, dai. Solo applausi per i protagonisti della traversata dell'Ario. E' il numero 3, Fabio Maggioni. Grande Fabio. Bravo. Da dove arrivi? Monticello Brianza. Monticello Brianza perché c'è il mare a Monticello, quindi grandi notatori. Applausi per i protagonisti della traversata dell'Ario. Grazie. Grazie. Grazie.